eccoci oggi vediamo assieme questo endoscopio che mi hanno spedito apriamo la confezione in plastica molto dura quindi interessante sigillato adesso ve lo sballo voilà manuale anche in lingua italiana siamo nelle ultime pagine ma ci siamo di regola i manuali di istruzioni evito sempre di evitare di guardarli corpo tutto in plastica gommato qua nell'impugnatura la qualità sembra proprio è appunto plasticosa però però vediamo prima acceso tasto di accensione qua sopra teniamo premuto andiamo si lo schermo è abbastanza grande ora collego la sonda che ha il suo attacco a vite voilà ed ecco le immagini ok la risoluzione i davanti ci sono i led la risoluzione sembra discretamente buona ora lo proverò meglio ho visto che è munito di doppia telecamera ce n'è una di fianco con un led e una anteriore con i led questo è molto utile perché quando andiamo dentro dei tubi per dire dello scarico dell'acqua e ci sono delle giunte a 90 gradi o comunque degli sdoppi possiamo guardare con la telecamera laterale anche dentro appunto agli sdoppi all'incroci chiamiamoli come vogliamo nel menu premendo il tasto impostazioni possiamo scegliere la risoluzione l'etichetta della data e ovviamente l'impostazione della lingua che ho già messo in italiano date ora formato vediamo un po sul formato che cosa esce fuori ok formatta praticamente non formato vabbè in traduzione un po fatta come vogliono loro impostazioni predefinite la memoria interna da 32 giga edizione eventualmente per l'aggiornamento del firmware impostazione della lingua eccetera eccetera la proviamo dentro un tubo ma prima dimenticavo di farvi vedere come si passa dalla telecamera anteriore a quella laterale semplicemente tenendo premuto il tasto della fotocamera questa è la laterale con il suo led la potenza del led la possiamo regolare tramite le due frecce e ritenendo premuto il tasto fotocamera passiamo appunto da una all'altra la sto provando dentro un vecchio lavandino che ho nel garage e c'è molto schifo all'interno però si vede discretamente bene e alla fine a noi ci interessa questo che le immagini siano buone sì non male di una buona qualità schifo a parte fa esattamente il suo lavoro quindi tutto sommato nonostante forse la qualità costruttiva poteva essere leggermente migliore svolge pienamente il suo lavoro una cosa che ho trovato forse migliorabile sarebbe la qualità della sonda che è molto rigida vedete è tipo come se fosse del fil di ferro e di conseguenza all'interno delle tubazioni farà molta fatica per fare le curve quindi bisogna starci attenti è più adatta per tubi molto grandi di diametro e dove non devono esserci tante curve da percorrere la sonda è molto lunga e quello che dicevo prima è molto plasticoso ma vabbè diciamo che svolge la sua funzione qua di fianco troviamo ovviamente qua sotto il pulsante reset il il connettore usb di tipo c per la ricarica e la lo slot per la second digital micro sd che è già inclusa nella confezione ed è da 32 gb prodotto che svolge bene la sua funzione a patto di non avere un utilizzo professionale grazie a tutti